Per far crescere il vostro canale YouTube Mi spiegherò i consigli di tutto quello che ho imparato su YouTube in questi anni Io vi saluto e spero di rivedervi presto Bravi, bravi, un applauso, un applauso Cioè l'hanno pubblicata su YouTube, adesso Hanno messo la canzone su YouTube Io non ce voglio credere, non è possibile che la gente è così idiota Ma com'è possibile, come si può fare E' bastato, farla girare sui gruppi di WhatsApp, no? Ve pare, ve pare, ma che scherzate Cioè che, allora la mettiamo su WhatsApp e finita là, no? La devono pubblicare pure su YouTube Ma avete proprio rotto il cazzo Ma avete rotto il cazzo Ancora di più la demenza di sta gente Mo ve lo faccio vedere Cioè, l'hanno messo su YouTube Al contrario Ma è la base, è quella della mia canzone È proprio quella Cioè regà, correte a segnalarlo subito Sta ancora online il pezzo Sta ancora online Ve prego, segnalatelo Regà, segnalatelo Anthony, ciao, scusa una cosa Ho visto che hanno pubblicato praticamente la canzone L'hai detto anche tu L'ho scaricata per vedere praticamente al contrario com'era Ma Vabbè Il fatto non toglie Che non toglie che ha fatto una cosa grave E così Però non Cioè Non Le canzoni non sono quelle lì le parole Cioè Mo te la faccio sentire Cioè Non ha proprio cantato Cioè Non c'è la tua voce Senti qua Cioè Non si sentono Cioè le tue parole non ci sono proprio È lui che l'ha rifatta Molto probabilmente Perché Dice sempre le stesse parole E non si capisce niente Quindi Vabbè Comunque Anche io ho detto di segnalare Cioè Quindi è stato a capire che ha fatto sto scemo Si è preso la base E ci ha ricantato sopra Cioè Ma la gente non sta bene Comunque Sta fuori del cervello Mi ha fatto prendere un colpo Meno male che è così Raga Rimane il fatto però Che quella È la base di like Dislike Per cui Voi continuate Comunque sia A segnalare a manetta Il video su youtube Perché lo deve toglie Lo deve toglie Punto E basta Quella È la nostra base